Seconda, ancora una buona moneta, ma questa volta buoni quattro anni sul miglio. Top Griffitale, Tiger Breed, Try Again, Turaco Jet, Transval G Bay, Terracotona, Titanic Deni, chiaramente quasi no betting. Mezzo meccanico in movimento, sette buoni quattro anni, miglio, seconda del convegno, arretrato Titanic, prende velocità la macchina. Il quattro Turaco di Galoppo, una molla a partire, Terracotona Jet, nei confronti di Top Griff che tenta di rientrare a Transval G Bay, tranquillo in coda, Titanic Deni. 13.04 il lancio da parte della Jet di Giorginio, viene via Try Again con Mario Minopoli Union e punta in avanti Try Again e va su Terracotona e probabilmente sarà un classico freeway. 33 freeway annunciato, le Gain di Mario Minopoli al comando. È un figlio di Equinox B. Allargo la risalita di Titanic, 600 in 44.04 fuori corsa Turaco Jet. E Try Again tutto sommato fa buona andatura e conduce liberamente. Si va al completamento del mezzo miglio iniziale, mezzo miglio in piena spinta del leader in 59.7 da 1.14.6, Titanic ora in quarta posizione, Valsalchi di numero uno Top Griff Italia. Il chilometro in 1.14.1, Titanic prosegue a largo di Terracotona, mentre Try Again conduce con due di margine. I cavali affrontano la curva finale, ancora redditizia la frazione, 14 fan 1.28.1 e tre quarti di miglio cerca la gancio. Il Deni di Minucci, ma Try Again c'è ancora buon margine. Retta d'arrivo, Try Again al comando, in seguito da Titanic, Deni. Try Again al comando, Titanic l'ultimo a fondo. Viene via l'allievo di Minucci, ci crede, ci prova, ma Try Again è in vantaggio. I cavalli sono in zona traguardo, Try Again si salva da Titanic, Deni. 1.58.2, chapeau ancora una volta. 1.13.9 e che tira fuori dal cilindro il francesino, e che tira fuori. E diamo anche le scuse a questo Titanic. Ha corsa alla grande, ha girato di fuori, partenza lenta, ma ha trovato un cavallo al top della condizione. Try Again, Equinox B, Mario Minopoli. Titanic, Deni, la quota al totalizzatore 7.23. È tutto per la seconda linea alla regia.